Un Dean di Christian Petzold riunisce due anni dopo la sua presenza in competizione alla Berlinale la folgorante Paula Beer e il talentuoso Franz Rogoski, protagonisti di un cast che comprende Mariam Zaret, Gekod Maschens e altri. Un racconto d'amore narrato con Glandia Prombe. Un Dean è una giovane guida turistica in un museo di Berlino. Quando il suo fidanzato la lascia, lei giura di ucciderlo, ma presto incontrerà un altro. Il tedesco Petzold rielabora alla sua maniera la figura mitologica dell'Ondina, creatura marina del folklore europeo, con una storia d'amore vendetta che si sviluppa nel corpo fisico di Berlino tra architettura e cinema. Un film emotivamente potentissimo, ermetico da comprendere, emozionante da vedere per dirla come i movie. Grazie a tutti. sightsemi or marco